Bentornati su MyFootballJersey, vi mostro un'altra anticipazione per la prossima stagione. Questa è la terza maglia del Liverpool in edizione Player. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Vi ricordo che la maglia non è ancora ufficiale, ci tengo a precisarlo. Però per me è una bella versione, particolarissimo il logo in verticale, chissà se sarà quello definitivo. Mi piace questo disegno che c'è nella maglia, in questi toni di bianco e grigio. Bella la rifinitura rossa e gialla, una maglia che se rimarrà così, secondo me, ben fatta. Il costo l'avete visto? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!